Buonasera, sono Luca Framarena, Presidente della Strada del Raciotto dei Vini Gambella Radoc. Noi siamo una realtà come ente che si occupa della promozione sia di prodotti tipici locali che anche dei vini di Gambella Radoc. Quindi noi andiamo in sinergia e lavoriamo in sinergia con i consumatori della Vinidoc, sempre di Gambella Radoc, dove abbiamo come soci una trentina di aziende che si impegnano per dare al consumatore finale un prodotto d'eccellenza. Però non vogliamo dare anche a voler esporre solamente i vini, noi vogliamo anche esportare dei vini appinati a una certa tecnologia di prodotto tipico. Quindi noi vogliamo creare un pacchetto completo che includano sia i nostri vini, che sono di eccellenze, sia anche dei prodotti tipici che altrettanto non si iscrivano in una gente qua. Secondo me nasce dal fatto di una ricerca sulla qualità, sulla purezza del territorio. Quindi quando noi andiamo a voler bersano, cerchiamo i prodotti adesso non oltreoceano, ma cerchiamo quelli più vicini, quelli un po' più appetibili, che comunque hanno delle valorizzazioni internazionali, ma che comunque li troviamo vicino a casa. Quindi una ricerca dell'autocono nasce dal fatto di voler bersano e di voler bere made in Italy più vicino possibile a casa, perché comunque sono tutti i prodotti che hanno un'estrema versatilità e anche una complessità che non abbiamo pari di nessuno. Quindi questo secondo me è la mia ricerca dell'autocono.